Il castello dei Conti Oliva a Pian di Mereto si tinge di rosa per ospitare l'incontro di sensibilizzazione sulla prevenzione e la cura dei tumori. Una iniziativa che vede arrivare in questo territorio due importanti personaggi che potranno cercare di sviscerare fino in fondo un argomento così di grande attualità. Un appuntamento questo che avete creato qui al castello davvero importante, suggestivo, di richiamo. Sì, l'abbiamo voluto fortemente perché crediamo anche fortemente nella prevenzione. È uno degli argomenti sempre attuali purtroppo, ma è sempre all'angolo pronto a colpire chiunque di noi. Pertanto riteniamo che sia giusto informare ed essere informati. Abbiamo chiamato due illustri medici, il dottor Condemi e il dottor Magalotti, che hanno subito accolto la nostra richiesta venendo in questo territorio per far sì che tutti noi possiamo essere e approfondire alcune tematiche così importanti e sempre attuali. Dottor Magalotti, essere nel territorio, arrivare anche in questi luoghi come questa sera qui a Pian di Mileto significa voler essere vicini alla gente, volerli informare? Assolutamente sì. Come dice il professor Veronesi, per poter curare le persone bisogna conoscere, sapere quello che pensano, i loro progetti, quello che li fa gioire e quello che li fa dar fastidio, che li fa dolorare. Per cui sono qui perché penso che sia giusto conoscere tutte le persone che abitano anche in queste zone qua, che potrebbero avere bisogno di noi, speriamo di no, ma può capitare e cerchiamo di fare conoscere anche a loro queste problematiche, nel senso che la prevenzione sta alla base di tutto. Se vogliamo guarire da una malattia, scoprirla prima, è più facile poi guarirla. Questo qui è il mese in tutto il mondo, è il mese della prevenzione al tumore della mammella e conoscere per noi è fondamentale, perché se noi conosciamo un problema, una malattia, riusciamo a guarirla, a risolverla. Se non lo conosciamo fa paura, è proprio questo il problema delle donne. Le donne devono avere paura di una cosa che possono conoscere. Certo che se mettono la testa sotto la sabbia e non vanno fino in fondo, non conoscono il problema, non si risolve. Emanuela Ercolani, lei è sempre molto intraprendente nelle iniziative, oggi vice sindaco qui a Pian di Meleto, ha organizzato questo incontro e credo che sia motivo di soddisfazione, perché abbiamo visto gente e poi chi praticamente sale sul palco sono delle eccellenze per il territorio. Sì, certo. Troppo anche a Pian di Meleto, come dappertutto, ci sono tanti casi, persone che anche in questo momento sono in trattamento e quindi inizialmente c'è stata anche proprio questa richiesta e una buona risposta all'invito. Quindi spero che la serata vada bene, che sia una serata utile, informativa per tutti chiaramente, ringraziando tantissimo la disponibilità di questi grandi professionisti.